Continuano le iniziative del Comune di Cremona per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche sul fronte della comunicazione. Infatti, sul canale YouTube del Comune, sulla pagina Facebook e sul sito istituzionale, è stato pubblicato un video realizzato da Avviso Pubblico, l'associazione che mette in rete gli enti locali impegnati nella formazione civile contro le mafie. Il filmato ricostruisce l'evoluzione degli interventi di Stato, delle regioni e dei comuni per controstare la ludopatia e il dilagare delle sale da gioco, un fenomeno purtroppo molto diffuso anche in città e che colpisce le fasce più deboli della popolazione. Visita il sito www.avvisopubblico.it e inviaci i tuoi suggerimenti.